Il risveglio della notte di Francesco Luglie è veramente un importante risveglio del noir perché finalmente ci accorgiamo che le cose possono tornare al passato e proiettarsi nel futuro attraverso grandi scrittori che riescono a interpretare storie veramente toste, dure, forti, tagliate da macellai ma anche scolpite da artisti. Grazie